Questa meravigliosa cucina è stata una sfida interessante perché questa stanza è stata per molti anni spoglia e in attesa di essere riempita appunto dal progetto giusto. Quindi siamo molto felici di aver realizzato il sogno di Lorella e di Mauro che hanno finalmente deciso e si sono finalmente accordati per tinture, colori e quant'altro e poi abbiamo riempito appunto questo che era l'ultimo ambiente della loro abitazione che aspettavano molto tempo di arredare.